Il vaccino anti-covid, il presidente della società americana Pfizer ha annunciato che il vaccino realizzato in collaborazione con la tedesca BioNTech è risultato efficace nel 90% delle infezioni nella fase 3 della sperimentazione attualmente ancora in corso. L'azienda prevede di poter produrre entro la fine dell'anno 15-20 milioni di dosi. La notizia mette il turbo alle borse. Potrebbe cambiare già questo pomeriggio la mappatura delle regioni a rischio contagi in virtù dei nuovi dati acquisiti negli ultimi giorni dall'Istituto Superiore della Sanità. L'Alto Adige intanto si è autoproclamata zona rossa, le decisioni saranno annunciate al termine della cabina di regia nel pomeriggio. Dai medici e dagli infermieri arriva la richiesta di un lockdown totale nel paese. Didattica a distanza a partire da questa mattina per quasi 4 milioni di alunni della seconda e terza media delle regioni rosse e delle superiori di tutta Italia. Faccio mio appello dei pediatri, tenete i vostri bambini a casa, dice il governatore della Puglia Emiliano dopo la decisione del TAR di sospendere l'ordinanza che aveva disposto lezioni online per tutte le scuole elementari comprese. È un caso la nomina di Giuseppe Zuccatelli, commissario della Sanità in Calabria. Deputati e consiglieri della regione del Movimento 5 Stelle ne chiedono la revoca al ministro Speranza giudicando la nomina inopportuna e una inaccettabile beffa per i cittadini. Ieri ospitano nell'arena l'ex commissario Cotticelli ha dichiarato in quella intervista che mi è costata il posto, non ero io, devo capire perché. Joe Biden è a lavoro sulla squadra che a partire dal 20 gennaio, giorno del giuramento, sarà al suo fianco. Il neopresidente americano però, come promesso, si è subito messo a lavoro sull'emergenza Covid e oggi avrà un incontro con la sua task force. Donald Trump resta in silenzio ma già oggi potrebbe presentare i primi ricorsi. Cine e Russia intanto fanno sapere che aspettano l'ufficialità per complimentarsi con Biden. Frena il Milan, pari con il Verona grazie al gol di Ibrahimovic al 93esimo. Finiscono in parità anche Atalanta Inter e Lazio Juventus. Risultati che permettono a Roma e Napoli di salire al terzo posto grazie alle vittorie su Genoa e Bologna. Il pasticcio dei tamponi in casa Lazio coinvolge anche le nazionali. Oggi il medico bianco celeste verrà ascoltato in procura. Buongiorno dal telegiornale della Sette. L'avete sentita nei nostri titoli. La notizia è di poco fa l'annuncio da parte della multinazionale farmaceutica americana Pfizer di aver messo a punto un vaccino contro il Covid efficace al 90% in quella che è attualmente la terza fase di una sperimentazione che sta continuando. L'azienda prevede di poter produrre 15-20 milioni di dosi di questo vaccino entro l'anno. È una notizia importante, una notizia che ha regalato subito ulteriore euforia ai mercati europei come vedremo tra poco. Ma di fatto tornando alla situazione che riguarda il nostro Paese, diciamo subito che oggi si riunisce quella cabina di regia che, alla luce dei nuovi dati sul contagio che non accenna certo a frenare, dovrebbe cambiare i colori e la mappa delle regioni italiane. Partiamo da qui. La mappa dei colori potrebbe cambiare nelle prossime ore. Alcune regioni rischiano di abbandonare la zona gialla, altre come l'Alto Adige, forte della sua autonomia speciale, ha giocato d'anticipo e si è già autoproclamata zona rossa, annunciando un lockdown ancora più duro. Il report dell'Istituto Superiore di Sanità è in arrivo in giornata, con lo stato dei numeri che potrebbe allungare la lista dei territori che dovranno prendere misure anti-covid più restrittive. I numeri sono in calo, oltre 32.600 nuovi casi e 331 le vittime nelle ultime 24 ore, ma come sempre succede nel fine settimana, i tamponi fatti sono stati molti di meno. In queste ore il governo, la cabina di regia e lo stesso comitato tecnico scientifico sono a lavoro sui dati e sui 21 parametri che stabiliscono le aree a rischio. Alcune regioni hanno chiesto più tempo per inviare i loro dati. La Liguria chiede di valutare la situazione non solo in base ai numeri. Mettere tutto dentro un calderone che con un algoritmo dovrebbe dare la soluzione perfetta è impossibile, afferma il presidente Giovanni Toti. Dure critiche arrivano invece dai sindaci. De Magistris chiede da giorni di proclamare la campagna zona rossa, mentre il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, parla addirittura di strage annunciata in Sicilia. In Toscana si sta già lavorando ad un piano per far fronte all'aumento preoccupante dei positivi nelle RSA, uno dei problemi da risolvere affinché la regione non finisca in zona arancione. In Veneto il governatore Zaia ha annunciato l'installazione di tende riscaldate davanti agli ospedali. Per Valtere Ricciardi, consulente del ministro Speranza, servono dei veri lockdown cittadini e spetta ai governatori proclamarli. In alcune grandi città bisogna agire con decisione e farlo presto. Parole che seguono gli ultimi allarmi dei medici che hanno chiesto un lockdown totale in tutto il paese. Questa mattina anche gli infermieri di Napoli, metropoli che sta vivendo una fortissima pressione sugli ospedali, chiedono provvedimenti più restrittivi. Dal nord al sud i pronto soccorso sono intasati e i reparti sempre più in crisi. I posti occupati in terapia intensiva hanno raggiunto quota 2749, 115 posti in più. Ci attendiamo un raddoppio dei ricoveri nei prossimi sette giorni. Se il trend non metterà è in assenza di una medicina territoriale, anche l'associazione degli anestesisti ospedalieri è convinta che il lockdown sia la soluzione più ragionevole. Uno scenario che si preannuncia sempre più drammatico e che può essere sintetizzato con le parole di Massimo Galli, infettivologo del Sacco di Milano. Temo che la situazione sia ampiamente fuori controllo, pur con differenze regionali e locali. Dunque una situazione al momento, come diceva Galli, fuori controllo, che purtroppo potrebbe vedere lo scenario cambiare alla luce di questa notizia che appunto vi abbiamo dato in apertura, arrivata dall'americana Pfizer che con la tedesca BioNTech ha messo appunto un vaccino efficace al 90%. Sentiamo i dettagli. Con l'Europa che torna a chiudersi per rallentare la seconda ondata della pandemia e con il resto del mondo sempre in piena emergenza, la speranza ora più che mai è riposta in un vaccino e nella capacità della comunità scientifica e delle aziende farmaceutiche di produrre il prima possibile. Una notizia che può essere decisiva arriva oggi dagli Stati Uniti. Pfizer e BioNTech annunciano infatti che il vaccino anti-Covid, che hanno sviluppato congiuntamente, è risultato efficace nel prevenire oltre il 90% delle infezioni durante la fase 3 della sperimentazione, che è ancora in corso. Lo ha detto il presidente della Pfizer, Albert Burla. La fase 3 è l'ultima prima che i produttori possano presentare una domanda di omologazione del prodotto. L'efficacia, hanno spiegato ancora Pfizer e BioNTech, è stata misurata paragonando l'effetto sui partecipanti contagiati a cui è stato iniettato il vaccino, con quello di chi invece ha ricevuto la somministrazione di un placebo. Tutti i dati sono stati analizzati da un'equipe di esperti esterni e Pfizer prevede di chiedere alla Food and Drug Administration l'autorizzazione urgente per questo vaccino a due dosi alla fine del mese. Se tutto dovesse procedere senza intoppi, entro la fine dell'anno verranno prodotte dosi sufficienti per immunizzare da 15 a 20 milioni di persone. Nel frattempo i risultati di Pfizer e BioNTech dovranno essere diffusi nel dettaglio e pubblicati su una rivista scientifica. E torniamo adesso a quella che è la complessa e difficile gestione della pandemia nel nostro Paese con le opposizioni in queste ore all'attacco che fanno loro le istanze di quelle che sono le categorie produttive più colpite dalle misure e dalle nuove chiusure. Il Premier Conte in questa fase difende l'operato del Governo con una lettera. Il Governo non è mai andato in vacanza, gli effetti della seconda ondata non sono da imputare a noi. Giuseppe Conte in una lettera a Repubblica difende l'operato del suo esecutivo accusato di non avere retto nei mesi estivi le barriere necessarie per arginare la seconda ondata di Covid. Il Premier cita il raddoppio dei posti letto in terapia intensiva, l'assunzione di nuovi sanitari e la capacità decuplicata di tamponi giornalieri. Inoltre la disponibilità di tutti i dispositivi di protezione. Insomma Conte vuole cancellare l'immagine delle cicale oziose descritte dalle opposizioni e così percepite da alcune categorie sociali, sempre più insofferenti ai sacrifici visto che la contropartita dell'organizzazione sanitaria sembra mancata. Se avessimo mollato la presa, spiega nel dettaglio Conte, oggi non potremmo contare sul rafforzamento dei nostri strumenti di difesa e vivremmo già in pieno lockdown generalizzato. Se possiamo permetterci interventi mirati e differentemente dosati in base alle condizioni di effettiva criticità dei territori è perché non ci siamo mai fermati ma dobbiamo fare sempre di più. Ulteriore barriera difensiva contro le proteste delle regioni, specie quelle finite in fascia rossa guida a centro-destra di fronte a chiusure forzate ma anche di quelle che forse le chiusure le avrebbero volute per non doversele intestare. Con Salvini sempre all'offensiva pronto a cavalcare l'insoddisfazione delle categorie più colpite, oggi paladino di agenzie turistiche e tour operator esclusi dal decreto ristori. Diversi invece i toni di Berlusconi che tende la mano. Il governo ci ascolti e ponga rimedio ai ritardi accumulati in questi mesi. Non si deve perdere tempo prezioso, ci vuole un impegno comune a prescindere dagli schieramenti politici, trovare un luogo per confrontare le proposte e discuterle in vista di una decisione condivisa. Il luogo è il Parlamento e l'occasione è la sessione di bilancio. Il timore più grande, come sapete dunque, è la tenuta del sistema sanitario nazionale. Ieri abbiamo registrato quello che è l'allarme per quanto riguarda la situazione negli ospedali di Napoli, piuttosto che è la richiesta arrivata da esponenti della Lega del Piemonte di inviare nel Piemonte stesso, medici delle organizzazioni non governative, delle ONG. Oggi siamo andati a vedere quella che è la situazione nel pronto soccorso di Monza, per raccontare nello specifico un qualcosa di molto comune a questo punto, dal nord al sud del paese. Al pronto soccorso del San Gerardo di Monza, ormai da giorni non si accettano ambulanze in codice verde e bianco. I reparti sono saturi di pazienti Covid, non c'è più posto. Questo ospedale è stato uno dei grandi hub della prima ondata. A marzo e aprile ha accolto pazienti da Bergamo e Brescia. Ora si chiede che il senso di marcia sia invertito. Negli ultimi 20 giorni noi abbiamo trasferito circa 200 pazienti in altre zone, ma quelle che non ci siamo procurati all'interno della nostra zona dell'Abrianza sono solo 60. Il personale sanitario è allo stremo, turni infiniti per medici e infermieri. Perché spesso i colleghi non possono lavorare perché positivi o per rispettare gli isolamenti cautelativi? Con quel numero di non presenze abbiamo sicuramente bisogno di aiuto anche dall'esterno, motivo per il quale io ho chiesto alla Direzione Generale Welfare di valutare la possibilità anche di far intervenire forze militari o della protezione civile. È tutto un territorio travolto dalla pandemia. Qui è arrivata ora la grande ondata. Prefetto, sindaco e autorità sanitarie ormai da fine ottobre si sentono ogni giorno. La Regione ha già disposto un alleggerimento per quanto riguarda la presenza dei pazienti nell'ospedale San Gerardo. Continuare a fare un appello, che abbiamo già fatto più volte, a tutti i cittadini di Monza e dell'Abrianza al rispetto puntuale e meticoloso delle regole. Dal Palazzo del Comune da giorni si ripete un appello ai colleghi lombardi alla solidarietà. Oggi dei 600 posti disponibili nell'azienda ospedaliera cittadina, 438 sono occupati da pazienti Covid. Nei comuni Brianzoli vivono più di 800.000 persone. La situazione di Monza mette in sofferenza un vasto territorio dove le cure ordinarie rischiano di non poter essere gestite per lungo tempo. Riattivare quel meccanismo di solidarietà, chiamiamola così, che è uno dei perni del sistema sanitario lombardo, uno degli strumenti che ha dimostrato di essere maggiormente efficace proprio alcuni mesi fa, dove il problema di alcune province non era il problema loro, ma era un problema lombardo. L'associazione Codacons chiede un intervento della magistratura sulla tenuta della sanità lombarda, facendo luce soprattutto sulla situazione di Monza. E poi c'è l'altro fronte che torna a preoccupare con nuovi gravi focolai, è quello dell'RSA, le residenze per anziani. Già frontiera tragica nella prima fase della pandemia a febbraio e marzo. Ci sono situazioni, come detto nel servizio di apertura, che riguardano per esempio la Toscana, dove sono oltre mille i contagiati nelle strutture per anziani. C'è una seconda ondata anche per loro, gli anziani, che da mesi ormai vivono blindati nell'RSA dal nord al sud dell'Italia e per quegli operatori sanitari che li accudiscono. Milano, Como, Napoli, Foggia fu una strage la prima volta, adesso si è forse più preparati, ma il Covid non fa sconti, occorre blindarsi ancora. Si sono chiusi in una bolla sanitaria nell'RSA di Olgiateco Masco, l'80% degli ospiti è positivo, a casa due operatori su tre, non si entra e non si esce, salvo che per importanti motivi familiari, ma anche il personale, lo sforzo è incredibile, come ci racconta Andrea Cirincione, referente Covid, di questa struttura. Ho alcuni operatori negativi che sono negativi al tampone, che sono al lavoro e ho svariati invece operatori positivi, asintomatici, che sono al lavoro e meno male che questo accade, glielo dico, c'è anche una deroga da parte delle istituzioni in questo senso, perché se no noi queste strutture le dovremmo chiudere. Purtroppo è obbligatorio far lavorare i positivi asintomatici. Dobbiamo anche gestirci all'interno l'emergenza sanitaria, perché in questo momento tenga presente che è difficile accedere agli ospedali, difficilissimo, e soprattutto per le persone anziane. Le persone anziane, che sono quelle più esposte giustamente alle peggiori conseguenze, sono quelle che più difficilmente vengono accettate nei pronti soccorso e dagli ospedali. È una realtà drammatica da dire, ma è così. Blindarsi sembra l'unica possibilità, dato che il virus viene probabilmente portato dentro dagli operatori sanitari. Le visite dei parenti sono già bloccate da marzo. Nella RSA di Borgo Bassano di Cittadella, in provincia di Padova, sono morti 9 anziani in 10 giorni e contagiati 58 ospiti su 62. Tutti positivi, 70 ospiti di una casa di riposo di Foggia, quasi tutti asintomatici. Nelle strutture della Toscana, quasi un anziano su 10 risulta positivo. Su circa 12.500 pazienti delle oltre 300 strutture, 1.103 risultano contagiati, mentre tra gli operatori si registrano circa 100 casi e la Regione sta predisponendo un apposito piano per separare i contagiati dai negativi. Il Ministero della Salute invierà oggi una circolare a tutte le Regioni per chiedere loro di intensificare i controlli su visite personale nell'RSA e di attenersi a linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità e potrebbe inviare i NAS a fare ulteriori controlli. Il Governatore della Puglia, Emiliano, che fa suo in queste ore l'appello dei pediatri, chiede ai genitori di non mandare i figli a scuola, nel giorno in cui la didattica a distanza coinvolge circa 4 milioni di studenti. La scuola in lockdown soft, la ripresa delle attività scolastiche in presenza, è durata molto poco e da oggi milioni di studenti fanno scuola da casa. In base all'ultimo DPCM, dopo la forte risalita della curva dei contagi, da oggi la didattica a distanza è applicata al 100% in tutte le scuole superiori. Dalla seconda media nelle zone rosse, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Calabria. Sono 362 mila gli insegnanti delle scuole statali che svolgono la propria attività in didattica a distanza, il 45% dei docenti in servizio, compresi 75 mila precari, mentre a studiare da casa saranno 3 milioni e 700 mila alunni, il 44% del totale. Ci sono poi 63 mila insegnanti della primaria e dell'infanzia, bloccati in campagna dall'ordinanza del Governatore De Luca, che ha imposto la chiusura delle scuole fino a metà novembre. Mentre si riapre un caso in Puglia, far discutere l'appello del Governatore della Regione, Michele Emiliano, faccio mia la richiesta dei pediatri, evitate di mandare i bambini a scuola in presenza, questo è più sicuro sia per i bambini che per la salute pubblica. Scegliete se possibile la DAD, fino a quando i dati epidemiologici non scenderanno. Si rivolge alle famiglie, il Presidente della Regione, nel giorno in cui le scuole della Puglia, elementari e medie, devono riaprire su decisione del TAR, che ha sospeso l'ordinanza nella quale Emiliano disponeva la DAD in tutte le scuole. Il Comitato Tecnico Scientifico ha fissato l'obbligo della mascherina al banco per gli alunni di elementari e medie che continuano ad andare a scuola, anche se vi è un metro di distanza. Una decisione sofferta, dicono dal CTS, ma necessaria perché il rischio di contagio è molto alto. Due ore fa il Ministero dell'Istruzione ha inviato una circolare ai presidi della scuola primaria a tempo pieno e della scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, dove si stabilisce che è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata per garantirne l'efficienza. Il Ministero ha assicurato che sta provvedendo alle forniture. Nel documento si aggiunge che possono essere utilizzate anche mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte in materiali multistrato, idonei a fornire un'adeguata barriera e al contempo che garantiscano comfort e respirabilità. La bufera mediatica e politica adesso che ha travolto Giuseppe Zuccatelli, neocommissario della Sanità calabrese, per quelle parole in un video di qualche mese fa in cui diceva che le mascherine non servivano. Adesso i deputati, i consiglieri calabresi dei 5 Stelle chiedono a Speranza che venga rimosso. Una gaf dopo l'altra e ora all'orizzonte della Sanità calabrese si intravede un nuovo stravolgimento. Nominato d'urgenza dopo il licenziamento del suo predecessore Saverio Cotticelli, già si fa tempesta su Giuseppe Zuccatelli da quarantatore commissario della Sanità calabrese. Appena insediato, su di lui piovono fulmini. Con una nota all'europarlamentare Laura Ferrara, alcuni parlamentari i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle eletti in Calabria prendono le distanze dal nuovo commissario scelto dal governo e chiedono la revoca della nomina di Zuccatelli con effetto immediato. A seguito scrivono delle video in cui Zuccatelli esprime colorite teorie empiriche quasi negazioniste sulle modalità di contagio del virus. Ecco esattamente che cosa diceva il neocommissario della Sanità in Calabria. Se io fossi positivo tu sai cosa devi fare? Devi stare con me e baciarmi per 15 minuti con la lingua in bocca. Dopo le dimissioni si legge nella nota dei 5 Stelle del generale Cotticelli non possiamo permetterci un'altra figura inadeguata a sovrintendere la sanità calabrese. In un'intervista sul quotidiano Il resto del carino di oggi Zuccatelli ora in quarantena perché è positivo al Covid sostiene di non essere un negazionista e che lui negazionisti li farebbe sparire dalla faccia della terra. Quel video è stato tirato fuori dai poteri forti si difende ma sulla scia della presa di posizione dei 5 Stelle sono arrivate anche altre critiche sia dall'opposizione che da altri partiti della maggioranza. Prova a difendere il solo ministro della salute Speranza 30 anni di curriculum non si possono cancellare per un video sbagliato e rubato è stato comunque un modo sbagliato di comunicare anche se è avvenuto in una stagione diversa Zuccatelli infatti si era difeso dicendo che quelle sue dichiarazioni erano state fatte nei primi tempi della pandemia secondo il sito Open invece il video risalirebbe a fine maggio prova a difendersi anche il suo predecessore l'ex commissario della sanità calabrese Cotticelli rimosso perché in un'intervista aveva ammesso di non sapere di dover predisporre il piano Covid in Calabria queste le sue parole molto imbarazzate alla trasmissione della sette non è l'arena di Massimo Giletti io non so in quel momento che cosa mi sia successo la mia famiglia non mi ha riconosciuto io stesso non connettevo dottore il piano anti-Covid l'ho fatto io mentre Morra senatore 5 Stelle eletto in Calabria e presidente della commissione antimafia assicura sto lavorando con il governo per la formazione di una squadra di livello mondiale per il definitivo salto di qualità della sanità calabrese lasciamo adesso il fronte Covid e andiamo a vedere come sul tema delle tutele si sia spaccato il fronte delle aziende di consegna di cibo a domicilio perché Just Eat uno dei colossi ha deciso l'assunzione dei rider dal 2021 di fatto disconoscendo quel contratto già definito dai sindacati di comodo non era mai successo che una delle piattaforme delle consegne dei pasti a domicilio offrisse un contratto di assunzione ai suoi riders come si prepara a fare adesso Just Eat l'ultimo mese scandito dall'inchiesta di Milano su Uber Eats e i suoi fattorini pagati 3 euro a corsa e spesso puniti da un meccanismo di malus poi la protesta contro un nuovo contratto sottoscritto da So Delivery e il sindacato UGL un accordo considerato capestro contestato dalle altre sigle sindacali ma anche in piazza dai riders perché ha abbassato il salario che già era da fame questo è lo screenshot di una consegna di qualche giorno fa 1 euro e 20 di tariffa base 1,97 per 4 chilometri e mezzo di corsa 35 centesimi per l'attesa di un quarto d'ora fuori dal ristorante 1 euro e 26 di bonus in tutto 4 euro e 43 a Just Eat multinazionale olandese ora spiegano che si sono pentiti della firma su quell'accordo insieme con le altre piattaforme e l'UGL un accordo peraltro già impugnato dagli avvocati dei riders in diversi tribunali hanno deciso di contrattualizzare i loro fattorini dall'anno prossimo sarebbero 3.000 assunzioni e quindi abbiamo deciso di fare un ulteriore passo avanti ossia di offrire la possibilità a questi rider di diventare lavoratori dipendenti quindi di dare trasformare diciamo ampliare le tutele che loro oggi hanno i vantaggi che hanno offrendogli un contratto di lavoratore dipendente per i riders ovviamente è una buona notizia sarebbe la prima volta che il loro lavoro una fetta di mercato da un miliardo di euro con l'ipotesi di una crescita ulteriore con un nuovo lockdown supererebbe il meccanismo odioso del cottimo aprirebbe tra l'altro una breccia e probabilmente le altre piattaforme presto o tardi sarebbero costrette ad adeguarsi a Just Eat resta però il problema di che tipo di contratto verrà proposto ai riders che nei ricorsi in tribunale hanno chiesto l'applicazione del contratto dei lavoratori della logistica fino adesso ai 15 riders che hanno contestato il contratto GL da Just Eat è arrivato proprio oggi una PEC non siete lavoratori subordinati non possiamo adeguarvi al contratto nazionale della logistica una terribile notizia di cronaca che arriva dalla provincia di Torino dove un uomo ha sparato alla moglie e ai figli e poi si è tolto la vita la donna è morta così come uno dei bambini neanche di due anni gravissima la sorellina gemella è accaduto all'alba in una villetta di Carignano l'uomo aveva telefonato al fratello prima di sparare a tutta la famiglia andiamo adesso negli Stati Uniti dove Joe Biden nuovo presidente ieri ha tenuto un discorso all'insegna del forte richiamo all'unità del paese di fatto comincia adesso una complessa fase di transizione minacciata da quelle che sono le minacce appunto di Donald Trump di adire alle vie legali archiviate le elezioni con la vittoria di Joe Biden a Washington il braccio di ferro con Donald Trump non accenna a concludersi da qui al 20 gennaio giorno del giuramento del nuovo presidente la strada è ancora lunga e si presenta per nulla semplice e pacifica entro l'8 dicembre le controversie legali a cominciare da quelle sul voto per posta aperte dallo staff di Trump si devono risolvere un termine che dovrebbe valere anche per l'eventuale riconteggio dei voti nei singoli stati è un possibile ricorso alla Corte Suprema l'ufficio governativo che gestisce tutte le agenzie federali ancora sotto il controllo dell'amministrazione uscente non ha formalmente riconosciuto Joe Biden come presidente eletto elemento che blocca l'ingresso dei suoi uomini nelle agenzie congelando così il flusso di denaro necessario a preparare il trasferimento di poteri anche se come promesso Biden ha confermato l'avvio della task force anti-covid e una prima riunione con gli scienziati chiamati a raccolta dal neopresidente si svolgerà nelle prossime ore resta il fatto che la cosiddetta transizione è un processo delicato in cui si distribuiscono ruoli e incarichi sulla base di accordi e negoziati tra le opposte fazioni comincia di solito tra la proclamazione del nuovo presidente l'insediamento alla Casa Bianca gestito normalmente dai transition team dei due candidati per questo un gruppo bipartisan di ex funzionari della Casa Bianca tra i quali anche molti rappresentanti repubblicani ha esortato Trump ad ammettere la sconfitta ma secondo i suoi avvocati sarebbero almeno una mezza dozzina gli stati in cui dal riconteggio dei voti potrebbe risultare vincitore anche i ricorsi contro presunte schede retrodatate sono pronti e si sta preparando un dossier completo da inviare alla Corte Suprema tutt'altro il clima per Joe Biden al lavoro sulla squadra di governo che ha promesso sarà uno specchio dell'America al di là delle divisioni che hanno spaccato il paese prima del giorno del ringraziamento si punta ad ufficializzare i primi nomi dell'esecutivo obiettivo è trovare un equilibrio tra le diverse correnti democratiche con la sinistra interna già all'attacco e si pensa a cooptare ex membri dell'amministrazione Obama e non è escluso che anche Elizabeth Warren e Bernie Sanders possano entrare in squadra ma Biden deve tener conto che i repubblicani manterranno probabilmente la maggioranza in Senato per questo ha aperto un dialogo serrato con gli esponenti conservatori da sempre critici con la presidenza Trump intanto dall'estero la Russia di Putin aspettando l'ufficialità per fare gli auguri a Biden si augura una prossima stagione di dialogo bilaterale Pechino è ancora cauta sui risultati definitivi americani mentre la cancelliera tedesca Merkel ha annunciato che la Germania lavorerà fianco a fianco della nuova presidenza in tutti i temi diplomatici cruciali di fatto l'elezione di Biden 46esimo presidente degli Stati Uniti ha dato una forte spinta ai mercati mondiali che oggi hanno aperto in positivo e si sono ulteriormente rafforzati come dicevamo per quella che invece è la notizia arrivata proprio dagli Stati Uniti del fronte vaccino le borse mondiali accolgono la vittoria di Joe Biden alle presidenziali americane con entusiasmo ma dare una spinta straordinaria alle contrattazioni è la notizia che in America la ricerca congiunta del colosso Pfizer e BioNTech ha raggiunto l'obiettivo di un vaccino efficace contro il Covid al 90% Milano guadagna tra il 5% e il 6% Londra Parigi e Francoforte volano anche loro sopra il 4% di rialzo i mercati avevano tirato già un sospiro di sollievo per la ritrovata stabilità dopo giorni di grande incertezza sull'esito delle elezioni americane in ogni caso l'ottimismo oggi si fa sentire innanzitutto sui mercati asiatici con Tokyo che chiude con un rialzo del 2,1% ai massimi da quasi 30 anni un clima di distensione che fa bene anche ai titoli di Stato un percorso cominciato già grazie all'attivismo delle banche centrali a supporto dell'economia e dei mercati oggi lo spread tra BTP e Bund tedeschi cala rispetto a venerdì e il tasso del decennale segue un nuovo minimo storico scendendo in avvio di giornata fino allo 0,57% giorno importante per il tesoro tra l'altro con il collocamento del secondo BTP futura a otto anni il titolo finalizzato a raccogliere denaro in chiave anti-covid il successo di Biden spinge anche le quotazioni del petrolio sostenute anche dalla notizia del vaccino nell'aspettativa generale che il cambio alla presidenza possa accelerare il via libera al maxipiano di stimoli per l'economia che Trump ha invece congelato il barile si apprezza di oltre il 7% tra i dati macroeconomici di giornata spicca il balzo dell'export cinese la cui economia è uscita con ampio anticipo rispetto agli altri grandi paesi dalla crisi economica legata all'emergenza del virus a ottobre l'export di Pechino ha registrato il rialzo più forte da oltre un anno e mezzo sotto il punto di vista economico ancora più urgente a fronte delle nuove chiusure sbloccare in Europa quelli che sono i fondi di sostegno comunitario una strada che come vediamo si complica per via di Orban e della sua presa di posizione sullo stato di diritto il portavoce della commissione europea ha appena confermato in conferenza stampa la commissione ha ricevuto una lettera da parte del governo ungherese una lettera in cui Viktor Orban minaccia di far saltare tutto tutto il piano così faticosamente elaborato dall'Unione per salvare l'economia europea dalla crisi del covid all'origine di questa clamorosa svolta c'è l'accordo raggiunto la settimana scorsa tra Parlamento europeo commissione e consiglio sul bilancio dei prossimi sette anni il bilancio al quale è legato il piano Next Generation EU quello dal quale l'Italia si aspetta circa 170 miliardi tra prestiti e erogazioni a fondo perduto un accordo che arrivava dopo lunghe discussioni sulla cosiddetta clausola sullo stato di diritto in parole povere il Parlamento insisteva perché i fondi venissero concessi ai vari paesi solo se fosse verificata l'applicazione da parte loro di principi considerati fondamentali come l'indipendenza della magistratura la protezione dei giornalisti il rispetto dell'opposizione alla fine il Parlamento l'ha spuntata ma ecco quindi che Viktor Orban si è sentito fischiare le orecchie ed ha reagito inviando appunto una lettera ai leader di Bruxelles Ursula von der Leyen Charles Michel e a quanto pare anche alla cancelliera Angela Merkel visto che la Germania detiene la presidenza semestrale una lettera in cui Orban minacerebbe appunto di far saltare tutto perché giudica la clausola sullo stato di diritto un'intromissione nella politica interna ungherese il portavoce della commissione stamattina ha detto che la lettera viene esaminata in queste ore ma è difficile capire cosa potranno fare le istituzioni europee visto che per far partire l'intero meccanismo occorre l'unanimità dei 27 il rischio quindi è che lo scontro consiglio commissione parlamento debba riaprirsi gettando un'ipoteca sui fondi che sono fondamentali per tutta l'Europa soprattutto in vista del riacuirsi della pandemia intanto stamattina il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni in un forum dedicato alle politiche europee ha fatto il punto su SHORE lo strumento messo in campo dall'Unione per il lavoro per sostenere una sorta di cassa integrazione europea ci sono risorse ancora non utilizzate tra gli 88 miliardi raccolti ha detto Gentiloni ma non potranno essere allocata ad Italia e Spagna perché questi due paesi hanno già richiesto le quote massime ad essi riservate 27 miliardi per Roma di cui 10 già erogati e sulla possibilità che il programma venga esteso una sorta di SHORE 2 il commissario europeo ha così risposto si può immaginare anche un SHORE 2 ma al momento non è nei programmi della commissione è iniziato oggi a Tunisi sotto legida delle Nazioni Unite il forum del dialogo sulla Libia da anni sconvolta da una sanguinosa guerra civile l'obiettivo minimo è salvaguardare la fragile pace raggiunta tra le due principali fazioni che si contendono il comando del paese il mese scorso è stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco ma ora il traguardo più ambizioso è quello di tracciare una roadmap che conduca il paese a libere elezioni ci fermiamo adesso per qualche istante e poi torniamo con la pagina sportiva tra poco Torniamo in studio per la pagina sportiva per parlare del campionato fortemente segnato da tutta quella che è la situazione coronavirus anche per quanto riguarda i riflessi e le ricadute sulle nazionali le prime sette giornate hanno detto chiaramente che questo è un campionato tipico diverso dai nuovi precedenti dove a dominare c'era solo una squadra la Juve un anno fa con 17 punti si era secondi staccati di 4 ora invece bastano al Milan per guardare tutti dall'alto l'uomo decisivo è sempre Zlatan Ibrahimovic che ieri ha sbagliato tanto incluso un rigore calciato in curva chiunque si sarebbe abbattuto lui no ha avuto la forza di rialzarsi subito trovando la rete del pari nell'ultimo assalto con il Verona squadra ben guidata da Iurici i rossoneri hanno confermato di avere limiti difensivi ma anche una forza psicologica enorme andare sotto di due gol e continuare a costruire il gioco non è da tutti l'imperfezione rossonera per ora bassa soprattutto perché alle spalle Juve e Inter non decollano in campionato Pirlo ha ottenuto appena tre vittorie una peraltro a tavolino e quattro pareggi bilancio magro come quello di Conte che nelle ultime otto gare ha vinto solo una volta per i bianconeri non aver affondato il colpo del K.O. con una Lazio decimata dal Covid è già una colpa ma farsi rimontare all'ultimo istante dal solido Caicedo lo è di più il ritorno di Ronaldo non è imbastato nemmeno la crescita di Rabiot Di Bala è ormai un enigma e se Quadrado continua a essere indispensabile significa che qualcosa non ha funzionato nella campagna acquista da parte sua Conte ha rispedito le critiche al mittente a chi parla di mancanza di furore gli toglierei il vino dal tavolo ha detto in realtà in Erazzurri più che il furore manca la solidità che è sempre stata la forza delle squadre di Conte 11 gol subiti in 7 giornate sono tanti in questo inizio di stagione condizionato dal Covid che ha ridotto il tempo degli allenamenti sono avvantaggiate le squadre che hanno un'identità ben definita come il Napoli che ha vinto Bologna trascinata da Lozano e Osimen che ha tu soggetta acqua sul fuoco mandando al diavolo chi parla di Scudetto in realtà la squadra è tra le più attrezzate se ha un difetto è quello di non saper concretizzare le tante occasioni create e una chiara identità tattica c'è anche la Roma che ha ricordato Gigi Proietti con la scritta sulla maglia grazie Mandrà i giallorossi sono terzi con il Napoli e nel pomeriggio verrà discusso il ricorso riguardante la sconfitta a tavolino con il Verona nella prima giornata intanto ieri a Genova Mkhitaryan ha disegnato calcio e segnato tre gol e qualcuno a Roma ricordando una celebre battuta di Gigi Proietti l'ha ribattizzato il Cavaliere Armeno ci vorrebbe un mago più che un commissario tecnico per allestire un gruppo di lavoro che nel caso di Mancini viene svolto il smart working sempre per il Covid il CT seguirà gli allenamenti in video e forse tornerà giovedì cacciatori che non arrivano e non si sa mai se arriveranno perché il virus sta flagellando le convocazioni e nel quadro già compromesso sono entrate in scena da ieri alcune asle è successo nella capitale a Firenze scelte sanitarie e territoriali che condizionano la disponibilità di alcuni azzurri e stanno alimentando le polemiche dei club l'ambiente era già pesante sul tema delle nazionali e di ulteriori contagi soprattutto sulla possibilità di evitare almeno le partite senza punti in palio sulla difformità delle decisioni l'amministratore delegato dell'Inter Marotta solleciano l'intervento del ministro Sparafora nel dedalo dei tamponi e degli isolamenti lo staff azzurro deve fare di necessità virtù allargando a 42 le convocazioni di cui molte differite a Coverciano sono arrivati in 21 quelli che oggi pomeriggio vanno in campo e da cui uscirà la formazione di mercoledì per il match con l'Estonia a Firenze in amichevole escluso Acbonna infortunatosi sabato in premier da valutare Romagnoli che si è affermato prima di Milan-Verona per questo motivo ci sono state nuove chiamate in difesa con Bastoni dell'Inter e Gianmarco Ferrari del Sassuolo che arriverà domani con i compagni Berardi, Caputo e Locatelli al termine dell'isolamento fiduciario aggiunto anche il centrocampista Zaccagni prima convocazione dopo l'ottimo avvio ricampionato con il Verona resta in attesa di notizia dalle ASL i convocati di Roma Lazio e Fiorentina previsto romani l'arrivo già concordato di alcuni big che saranno impiegati nelle ultime sfide di Nations League con la Polonia e la Bosnia nel pomeriggio comincia la difesa del Napoli davanti alla Corte Federale d'Appello per il ricorso sulla gara con la Juventus che oltre alla sconfitta a Tavolino ha portato un punto di penalizzazione per il caso Lazio questa mattina in FIGC doveva essere ascoltato il dottor Pulcini ma il responsabile con un certificato medico oltre alla giustizia sportiva si muove la procura di Avellino che lavora sul laboratorio Futura Diagnostica utilizzato dalla Lazio il cui amministratore Massimiliano Taccone risulta iscritto nel registro degli indagati era l'ultimo servizio la linea va a Tiziana Panella con Tagadà buon pomeriggio sulla 7